Carissimi amici, è arrivato per i YouTube e oggi torniamo su DoTestWars Insieme a tutti questi cari amichetti che stanno ballando qua nello schermato di inizio Oggi voglio provare a fare una cosa Tanti di voi mi hanno detto che posso vendere le automobili, posso vendere i veicoli Quindi oggi proveremo a vendere i veicoli più strani che ci sono all'interno del gioco Voglio pure provare a vedere cosa succede se provo a vendere un UFO Riusciremo a venderlo, lo scopriremo in questo video Ma come sempre c'è di questo tantesimi like, se neanche che lasciate se rappare Il cibo associato a voi sarà la macedonia Se invece le like sarà dispare, il cibo associato a voi sarà la torta Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali cibo siete associati Iscrivetevi al canale con la campanella attiva così anche voi farete parte della panino femmine Ma adesso partiamo subito, cominciamo perché questo qua lo vedo già bello carico nella schermata di inizio Facciamo modalità singola, facciamo ricci, perfetto E ora proveremo a vendere tutti i veicoli più assurdi che ci sono qua Ah, tra l'altro questo video sarà diviso in più parti, no? Quindi farò poi le parti successive Perché qua ci sono tante cose che possiamo vendere C'è pure il carro armato dell'area 51 E quello sarà molto difficile da fare Ma voglio provare a farlo Allora prendiamo innanzitutto questa macchina Perfetto Usciamo fuori E mamma dai Subito la macchina lì davanti mi sono trovato Subito lì una macchina davanti Non direi che la macchina Slav 420 è una delle più comode da guidare Mi dispiace venderla perché è bella comoda Bella comoda Su fermati qua E non è più tanto comoda da guidare Andiamo qua qui sopra sul ponticello Perfetto Allora per vendere le automobili bisogna andare qua dentro il negozio di auto Su su fermati Fermati macchina Ok Dobbiamo entrare qua dentro Dopodiché lì c'è proprio una pedana con scritto sell Una volta arrivati qua Io posso vendere l'automobilina Infatti qua c'è l'amichetto che dice Allora Quanto mi dai per questa macchina? Vediamo quanto mi offre 92 dollari Beh buono E' un metodo molto comodo per poter far soldi Perché in questo modo io posso vendere le automobili Le auto posso trovarle in giro Quindi vendo pure le auto delle altre persone Lo so A 192 dollari Ma veramente Io vado a prendere le auto degli altri Le vendo così e mi faccio i soldi E va più bello di così Nella realtà non si può fare E forse è anche meglio così che non si può fare nella realtà Perché sì è vero Io potrei prendere l'auto degli altri e venderle Ma anche gli altri possono prendere le mie auto e venderle Ma io posso vendere le auto del negozio Così per curiosità Prendiamo questa Saliamo qui sopra Vediamo se posso venderla Sì Cioè posso vendere l'auto del negozio Ma guardate Ma perché Ma seriamente Quanto mi offrirà Un dollaro Vabbè giustamente un dollaro Perché non è neanche mia questa macchina No no Rifiuto Meglio tenersi questa macchina Va Meglio tenersela Vediamo qua Allora sali qui sopra Scendiamo 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 Invece l'auto pulcino Quanto me la vende Stai fermo qua Stai ferma macchina Non si fermava neanche Prima di vedere questo quanto me lo vende Così per curiosità Sono veramente molto Molto curioso Sempre se ce la faccio ad arrivare Sempre se ce la faccio Su su sali qua Ok Conto mi offrirà mai Per la sua stessa macchina Che aveva proprio lui Proviamo a vedere Ok Su su veloce 3 dollari No Vabbè effettivamente questa non vale neanche mezzo centesimo Quindi la rimettiamo qui sopra Non me la fa più mettere Non me la fa più rimettere a posto Oh Ma ce la fai Ma ce la fai Su stai ferma qua Stai ferma qua Io me ne esco fuori E me ne vado Me ne vado Vediamo anche cosa succede Se io provo a vendere Non lo so Vediamo che cosa troviamo Il carrello della spesa Vediamo il carrello della spesa Quanto me lo vende Ok Andiamo dritti di qua Dovremmo trovare il dude mart Da queste parti Sì sì Di qua di qua Perfetto Veloce 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 Gira qua Ma su Ma sto albero Cioè gli alberi li distruggo sempre tutti Tranne questo Tranne questo Velocemente Ce ne andiamo Di qua Cosa Per poco Stavo per prendere Quel pedone Ma guardate Guardate qua Cioè ma veramente Sta sendo indistruttibile Ho salvato il pedone Ma è bellissima sta cosa Spettacolare Allora Andiamo a prendere Quel carrello della spesa Va Visto che in tanti mi avete chiesto Nei video no Panino Fai un video dove guida il carrello della spesa E adesso Senza farlo apposta Lo facciamo Perché andremo a vendere il carrello della spesa Come un'automobile Vediamo quanto ci darà Vediamo 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 Su su Esci fuori Esci fuori Dobbiamo a fare molta attenzione Perché il carrello della spesa È difficile da guidare Sempre se riesco ad uscire Che qua c'è sto gradino Dai ma Ma ce la fai ad uscire Ma cos'è Non riesci a fare neanche un gradino Su Esci fuori Da qua Ma cosa sta succedendo Ma che voli Mi sto facendo Con sto carrello Ma non è possibile Allora Fermiamoci un attimo Va che Sto carrello mi ha fatto perdere Il senso dell'orientamento Devo raggiungere Il negozio di auto Che si trova di qua Quindi adesso Seguiamo la frecciolina Che mi direi il percorso La giusta via Su su Veloce 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 Vai qua Sali 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 Perfetto Perfetto Veloce Mente Ma non ti girare Non ti girare Che Si è rotta una ruota del carrello Mi fa girare così a caso Su su Vai di qua Ma veramente Ma ci metterò una vita Con sto coso A guidare con sto coso Arriverò l'anno prossimo Qua al negozio di automobili No no Sono arrivato Stranamente sono arrivato subito Ci sono pure i freni Ma che roba è Ma che roba è Su Vai di qua Vediamo quanto mi offre Vediamo Su Ok Ok No Seriamente Posso vendere il carrello della spesa Quanto mi darà mai per il carrello della spesa Dai 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 Che sono curioso 40 dollari Un carrello della spesa Ma conviene Ma conviene Ma Ma seriamente Io me li prendo 40 dollari Me li prendo Grazie mille Grazie mille Grazie mille Tieniti pure quel carrello della spesa No ma che bello Spettacolare Adesso Vorrei pure provare a vendere altri oggetti No come ad esempio Se andiamo qua nella zona delle fattorie Dovremmo trovare degli UFO Quindi provo a raccogliere un UFO A guidarlo Riusciremo a vendere l'UFO Ce la faremo mai Adesso però ho bisogno di una macchina per muovermi Perché effettivamente sono rimasto senza niente Prendo questa macchina Ciao amichetto Me ne vado Me ne vado Veloci 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 Andiamo a prendere la macchina UFO Ok Andiamo di qua Gira Ma che macchina è Ma come ci sono arrivato qua dentro Ma non girava Non ha girato Ma che roba è Ma io posso mai guidare in queste condizioni delle auto che non girano Ok no Sono rimasto bloccato Non più Non più Mi sono sbloccato Perfetto Ok Ho pure fatto il ruscello Il fiumetto Vediamo se riusciamo a prendere un UFO Qui dovremmo trovare l'UFO Ok Usciamo pure fuori dalla macchina E cerchiamo l'UFO Dove staranno mai Dove sarà mai l'UFO Lo voglio prendere Voglio guidarlo Ok qua non c'è nessun UFO Forse L'ho trovato L'ho trovato Perfetto Perfetto Vediamo se possiamo vendere l'UFO Sono veramente curioso Quanto mi daranno mai per questo Ufo dove vai Dove vai Fatti prendere Fatti prendere No 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 Se ne sta scappando Se ne sta scappando No Vediamo se ce ne sono altri qua nei paraggi No non ce ne sono altri Ma dove va via Ma Ma seriamente Ma che fine sta facendo Appena mi ha visto se ne è andato via Mi sa che non lo raggiungerò più Mi sa che non lo prenderò più Ha iniziato pure a lampeggiare Sto andando pure fuori mappa Eh se ne è scappato via l'UFO Appena mi ha visto se ne è andato via Eh ma io come faccio a prenderlo se se ne va via Come faccio a prenderlo Ma andavo a piano Appena mi ha visto Boom Ha messo subito il turbo Devo dire che non è per nulla facile Prendere quest'UFO Non è per nulla facile Vorrei pure provare a vedere Sapete che cosa Vorrei provare a vendere La scopa Della strega Quella che mi ha preso nel cimitero Quella Chissà quanto mi daranno se provo a prenderla Ma è vero Potevo usare la modalità Freezy Per poter fermare l'UFO Per poterlo congelare E io così sarei andato più velocemente Vediamo se ne compare un altro da queste parti Va UFO Dove sei Fatti prendere Fatti vedere UFO Che ti voglio prendere La mia macchina se ne sta andando via Pure la mia macchina se ne va via Ma che roba è Ma che sta succedendo in sto gioco Tra gli UFO che se ne scappano Le macchine che se ne vanno via E niente Sono rimasto senza niente Sono rimasto senza niente Mi è sparito pure l'UFO Tornerà mai l'UFO O non tornerà mai Questa è la vera domanda Questa è la domanda che dobbiamo farci Io qua però non lo vedo nei paraggi Non lo vedo proprio tornare Vedo un elicottero lì sopra Dovremmo poi provare in futuro A vedere se si può vendere un elicottero Perché qua l'UFO proprio non lo vedo Non lo vedo Mi è sparito l'UFO Mi è scappato l'UFO Proviamo a fare una cosa va Salviamo la partita Usciamo dal gioco Dopodichè Proviamo a vedere qua Se Rifacendo la partita da zero Ritorna pure l'UFO Questa volta sappiamo cosa utilizzare Per prenderlo Perché riceve un'abilità È in grado di frizzare Proprio fermare la scena Quindi in questo modo Noi dovremmo essere in grado Di prendere l'UFO Ok apri quella porta Veloce 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 No vabbè ma perché mi danno sta macchinina Non prendo quella Vediamo se i vicini hanno qualcos'altro Vediamo 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 i vicini cosa offrono Oh beh dai Sta macchinina è già più simpatica Spero Spero che sia facile da guidare Perfetto Andiamo dove c'è la fattoria Dovrebbe trovarsi qua la fattoria Speriamo stavolta di trovare pure l'UFO Senza problemi Perché prima se ne è scappato subito via Appena mi ha visto se ne è scappato via Non sono riuscito a prenderlo Via di corsa Corriamo verso la fattoria Veloce 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 Dai che ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Perfetto perfetto No 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 Togliete di mezzo Togliete di mezzo E che roba è Si mettono poi gli altri lì davanti Ok Usciamo fuori Mettiamo subito qua il freeze Perfetto Ok Guardate Siamo riusciti qua a prendere l'UFO Siamo riusciti a prenderlo Vediamo se riusciamo a venderlo Prendiamo quel checkpoint Perfetto E ora ce ne andiamo Ce ne andiamo Di là Sempre se riesco A guidarlo come si deve Non è facile Devo andare con calma Devo andare Con molta calma Frena 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 Perfetto Vediamo qua Mettiamo sulla mappa Il negozio di Di automobili E così seguiamo quel percorso E cercheremo di vendere l'UFO Vediamo se è possibile vendere l'UFO degli alieni Sono veramente curioso Sono curiosissimo di vedere anche quanto mi danno No perché effettivamente mi dovrebbero pagare Con una roba del genere Ok Frena qua Dobbiamo cercare di entrare dentro Vediamo se ce la facciamo Dovremmo farcela Si si dovremmo farcela Alzati Ah c'è la levetta lì di lato Non me ne ero accorto Non mi ero accorto che ci stava la leva Perfetto Oh si Possiamo vendere l'UFO Possiamo vendere l'UFO Spettacolare Spettacolare Ma che bello Ma che bello E quindi che dite Lo vendiamo Mi da 119 dollari Molto molto volentieri Grazie mille E' stato un piacere aver fatto affari con te E' stato veramente un grande piacere Che bella cosa Pure gli UFO possiamo vendere Pure gli UFO Adesso voglio proprio vendere tutti quanti i mezzi Che stanno qua dentro sto negozio Vediamo che cosa succede Si sto coso non esce più Ma dai Ma come si guida Allora vai qua Vai qua Vai dritto Perfetto Vendiamo questo Questo mi darà un dollaro Ma già tanto che mi da qualcosa Su su veloce 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 Dammi tutti i soldini Vediamo che cosa Adesso 8 dollari Da un dollaro a 8 dollari Va bene va bene No no Che sta macchina da sola ha iniziato a muoversi Non ho avuto neanche il tempo di toccare qualcosa che si è mossa da sola Si è messa da sola in moto Vediamo questo invece quanto mi darà Quanto mi pagherai 4 dollari Cosa Vabbè E prendiamoci sti 4 dollari E adesso saliamo qua E ce ne andiamo qui sopra Praticamente io ho venduto tutto il concessionario a pochi dollari Primo 8 dollari Ora 4 dollari Questo invece quanto mi darà Un dollaro Insomma praticamente io ho venduto tutto 4 Più 8 Più un dollaro 13 dollari Il suo negozio è costato 13 dollari Ok io però sono rimasto senza niente adesso per muovermi Ma che roba è Magari in un prossimo episodio possiamo vendere anche altri mezzi Come ad esempio l'autobus Ci sarebbe anche l'elicottero L'aereo E anche il carro armato Che quello vorrei proprio prenderlo Guidarlo e vedere se possiamo venderlo In totale tranquillità All'interno di questo gioco Adesso qua cerco di trovare qualcosa Come prima cosa salvo Salviamo il gioco Cioè veramente questo qua è un gioco che Anche quando è finito di fare missioni C'è tanta roba da fare Tanta roba da scoprire E' il gioco ancora in fase di costruzione Gli sviluppatori lo stanno ancora creando No ma veramente è stato divertente aver venduto il carrello della spesa Nel prossimo video magari proveremo a vendere anche la scopa volante Per vedere quanto ci daranno E vediamo cos'è quello Aspettate Lì in lontananza sto vedendo qualcosa Cos'è? Un elicottero Ci sta un elicottero lì sopra Ma io come ci arrivo adesso lì sopra No no qualcuno mi dovrebbe poi spiegare come faccio ad arrivarci Come faccio a salire di là a prendere quell'elicottero Qui comunque vedo una rampa Quindi forse con la macchina anche di là c'è un'altra Bisognerebbe prendere una macchina Prendere la rincorsa E salire di là Potremmo provare a fare anche questa cosa qua In un prossimo episodio Va bene dai direi di fare una cosa Direi per il momento di fermarci qua con il video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere quale mezzo possiamo vedere nei prossimi episodi di Duteft Wars Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spalliciate, condividete Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video Come sempre vi auguro una buona giornata, buona serata Buonanotte Ciao a tutti E buon panino a tutti E buon panino a tutti